Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Belluno, ha sorvolato le aree travolte dalla tempesta dello scorso autunno. Mattarella ha lanciato un SOS al quale bisogna dare seguito per il bene nostro e di chi arriverà dopo di noi. Ha affermato, siamo sull'orlo di una crisi climatica globale per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale. Il senso ha aggiunto, parlando della commemorazione della tempesta, della sollecitazione sottoscritta nello scorso autunno da alcuni capi di Stato europei. Gli sforzi compiuti nelle conferenze internazionali che si sono succedute hanno sin qui conseguito risultati significativi ma parziali e ancora insufficienti. Per il Presidente della Repubblica non si può parlare di eventi eccezionali quando si parla di queste catastrofi ma bisogna adeguare ai territori a nuovi eventi climatici che sono evidentemente cambiati. E per venerdì 15 marzo è stata preannunciata una manifestazione da parte dei ragazzi e degli studenti di tutto il mondo. Scioperi e manifestazioni nelle piazze senza bandiere per far sentire la propria voce soprattutto ai capi di Stato e di Governo a cui chiedono impegni concreti contro i cambiamenti climatici. E adesso invece parliamo di una vasta operazione contro l'Andrangheta, un'operazione che è scattata con un blitz questa mattina da parte dei carabinieri di Padova e della Guardia di Finanza di Venezia che hanno eseguito 33 arresti. Il blitz è stato coordinato dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al riciclaggio, usura, sequestro di persona, estorsione, demissione di fatture per operazioni inesistenti. Sentiamo i dettagli nel servizio. In Veneto i carabinieri del Comando Provinciale di Padova e i finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno dato esecuzione a 33 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di alcuni soggetti appartenenti ad un'organizzazione criminale dell'Andrangheta. Le operazioni avviate nel 2015 sono state coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia coinvolgendo oltre alla nostra regione anche Lombardia, Emilia Romagna e Calabria. È proprio dalla regione del sud Italia che la cosca dell'Andrangheta Grande Aracri ha origine, in particolare da Cutro in provincia di Crotone. Da tempo si erano insediati nel nord Italia, comprese le province venete di Padova, Venezia, Treviso e Vicenza. Qui, anche grazie all'uso della violenza nei confronti di diversi imprenditori, acquisivano territorio e aziende per riciclare e sviluppare attività illecite. Adescavano imprenditori in crisi, promettendo loro un prestito per risollevare l'attività, per poi costringerli a collaborare con loro anche contro volontà. In alcuni casi, qualora le minacce prima e le aggressioni dirette poi non facessero effetto, arrivavano a modificare gli assetti societari delle aziende, diventandone di fatto i proprietari. I tassi di interesse, a cui alcuni imprenditori tentavano di ribellarsi, arrivavano anche al 300%. Grazie a questi subdoli, i meccanismi eludevano il fisco, accumulando una grandissima quantità di denaro contante in nero. Ammonta a circa 8 milioni di euro il valore dei sequestri odierni, che sommati a quelli precedenti superano i 20 milioni. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, istorsione, violenza, usura, sequestro di persona, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Dalle indagini sono inoltre emersi stretti contatti tra esponenti della cosca andranghetista e una vasta platea di imprenditori veneti, i quali in certi casi utilizzavano il denaro per fini personali e intermediari, a cui risultavano essere consegnate periodicamente cospicue somme di denaro contante. Alla luce delle ultime inchieste sono già oltre 100 i soggetti arrestati in Veneto per criminalità organizzata, comprese anche operazioni avviate nei confronti della Camorra. Non si può più parlare di presenze a livello locale, ma di un quadro di riferimento con struttura regionale, commenta il procuratore di Venezia Bruno Cherchi. L'Italia ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 MAX 8 Lenac, secondo quanto si apprende ha disposto lo stop operativo dei B737 a partire dalle ore 21. Anche il Regno Unito ha annunciato di aver bandito tutti i voli nel suo spazio aereo dopo il disastro avvenuto in Africa. E secondo quanto riferisce Bloomberg, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea sarebbe pronta a seguire la Gran Bretagna a bloccare tutti i voli dopo il disastro. Boeing ha affermato che procederà ad un aggiornamento del software dell'intera flotta 737 MAX 8. Grave incidente ieri sera in Veneto in A4 tra lo svincolo di Padova Est e quello per la A13 con direzione Venezia. Un motociclista Aldo Baraldi, 61 anni, ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua moto Honda. La dinamica della tragedia è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale che è intervenuta sul posto. L'uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo, erano circa le 20 di ieri sera. Cadendo sarebbe rimasto investito da più veicoli che stavano transitando proprio in quel momento. Immagini strazianti, quelle che sono apparse agli occhi dei soccorritori che hanno avuto il compito di intervenire. Adesso torniamo a parlare di un altro incidente, quello avvenuto nel fine settimana appena trascorso a San Pietro in Gu, in provincia di Padova, dove ha perso la vita una ragazza di appena 18 anni e altri tre suoi amici, tutti giovanissimi, sono rimasti gravemente feriti. E' emerso che il conducente era alla guida in stato di alterazione alcolica. Il sindaco di San Pietro in Gu, in provincia di Padova, ha proclamato il lutto cittadino per la tragica morte di Greta Luison, la diciottenne che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto lo scorso fine settimana. La ragazza era seduta al fianco del conducente quando l'auto sulla quale viaggiavano assieme ad altri amici è uscita di strada finendo in una canaletta con un impatto violentissimo. Nelle ultime ore i test effettuati sul conducente hanno portato in evidenza un tasso alcolemico molto elevato, stabilito in due grammi per litro. La notizia ha gelato gli animi già accaduti in disperazione per la morte di Greta. Ora l'automobilista subirà delle conseguenze che saranno stabilite nei prossimi giorni. Gli altri amici della vittima, tre giovanissimi, sono tutti ricoverati all'ospedale con ferite gravi. Il sindaco del paese ha lanciato un appello richiamando i giovani alla responsabilità e alla prudenza nel rispetto della vita. E dobbiamo parlare di un altro grave incidente provocato da una persona che si trovava alla guida in stato di ubriachezza. Quest'oggi il 58enne che guidava ubriaco in provincia di Vicenza, che ha travolto un passeggino dove c'era un bambino di 14 mesi, ferendolo gravemente, è comparso davanti al jeep, ma l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Era inchiuso da venerdì notte nella casa circondariale di Vicenza. Era atteso all'interrogatorio di convalida dell'arresto. Assistito dal suo legale, l'avvocato Luca Milano, l'artigiano, ha però preferito non parlare. Per lui il pubblico ministero, Barbara De Munari, ha chiesto il carcere, mentre il giudice Massimo Gerace si è riservato di decidere sul suo stato di libertà. Non è escluso che nei suoi confronti possano essere predisposti i domiciliari, ma con delle restrizioni. Il 58enne ha travolto con il suo camioncino una famiglia di origini albanesi, ferendo gravemente il piccolino a cui è stata amputata una parte di gamba. Sfiorata una tragedia nel bellunese è successo questa mattina quando un enorme masso è precipitato con una frana di sassi. Si è staccato dalle cime sopra San Vito di Cadore e ha colpito il rifugio Scotter Palatini a 1580 metri di quota. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. Nel rifugio c'era solo una dipendente che però era uscita proprio pochi istanti prima che precipitasse il masso. La roccia del peso di diverse tonnellate ha sfondato il tetto e devastato la parte posteriore della struttura. Un tragico incidente sarebbe all'origine di una caduta, una donna nell'Alta Padovana è ricoverata all'ospedale di Campo San Piero, è caduta dalla finestra del primo piano della sua abitazione. È ricoverata all'ospedale di Campo San Piero in terapia intensiva l'ottantenne, che nel pomeriggio di martedì è stata vittima di un tragico incidente domestico. Come centinaia di altre volte, la donna di Piombino Dese si è affacciata dal balcone e probabilmente attratta da qualcosa è scivolata inspiegabilmente. Un volo dal primo piano che, impattando con il suolo del cortile, è apparso subito grave per una signora della sua età. Il personale del suo M118, giunto sul posto grazie alla chiamata dei vicini, ha stabilizzato le condizioni della donna e tramite un'ambulanza l'ha poi trasferita al pronto soccorso. Con il passare delle ore le condizioni sembrano essere migliorate, tanto che i medici l'hanno dichiarata fuori pericolo di vita. La prognosi è attuale di circa 90 giorni prima che la signora possa riprendersi completamente. Nell'abitazione a Piombino Dese sono giunti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e per escludere responsabilità da parte di terzi. Al momento l'ipotesi più plausibile è che l'anziana abbia perso l'equilibrio autonomamente. I residenti della Venezia insulare, che comprende il centro storico ma anche le isole della Laguna, sono circa 100.000 e non nei poco più di 53.000 censiti ufficialmente. Lo rivela uno studio effettuato dal presidente della nona commissione consigliare Paolo Pellegrini e presentata oggi a Caffarsetti, basato sui consumi idrici della città. Partendo dai dati di Veritas, multiutility del servizio idrico, e dalla premessa che gli abitanti di una città non possono essere considerati solo in base agli iscritti all'anagrafe o alle liste elettorali. Il calcolo afferma che ai 53.076 censiti in centro storico e 27.759 nell'estuario vanno infatti aggiunti i residenti non residenti per un numero di abitanti equivalenti compreso tra i 102.064 e i 109.354. Parliamo di lavori sulla 4 per delle manutenzioni a Padova Est. Allora vi facciamo sentire un servizio nel quale vi indichiamo i giorni e gli orari. Mercoledì e giovedì notte dalle 21.30 alle 6 sarà chiuso al traffico il tratto autostradale da Padova Est sul viadotto Noventana. Per permettere i lavori si rende necessaria la chiusura dell'ingresso in A4 a Padova Est. Tutti i veicoli saranno convogliati al casello di Padova Ovest. Tutte le deviazioni saranno segnalate. Saranno realizzati dei lavori di manutenzione da parte di CAV. Segnalati anche lavori in A4 careggiata Est con direzione Trieste passante di Mestre. Con la chiusura della careggiata Est dell'autostrada A4 passante di Mestre. Gli interventi in questo caso saranno eseguiti con orario continuato dalle ore 21 del 15 marzo alle 6 del 18 marzo. E adesso cambiamo completamente argomento. Parliamo d'arte perché in questa edizione vogliamo farvi conoscere un artista padovano che ha catturato la nostra attenzione. Guardate. Quadri originali, colorati, che trasmettono energia delle opere che da qualsiasi punto le guardi mostrano qualcosa di diverso perché in un dipinto devi entrarci con l'anima. L'autore è un padovano. Quadri che davvero hanno attirato la nostra attenzione. Ci troviamo con l'artista Stefano Cappellini, padovano, e vogliamo conoscerlo. Come nascono Stefano i tuoi quadri? Nascono dalla mia fantasia naturalmente, ma nascono anche dalla mia gioia di fare qualcosa di bello per me. E ho iniziato così. Anche da bambino facevo sempre cose molto belle che mi dicevano gli altri che sono proprio belle, sono proprio belle. E allora questa cosa mi ha detto di continuare e sono arrivato fino a qui, insomma, con questa gioia del bambino che gli piace colorare, gli piace creare nella sua fantasia, insomma. Qual è il momento di maggiore ispirazione quando tu ti metti a dipingere? Eh, mi metto a dipingere quando mi viene un'idea. Cioè, nel senso, penso a qualcosa che mi piacerebbe fare. Una volta che l'ho creata nella mia mente, allora nasce una forza che mi fa iniziare e non mi fa più smettere fino a che non vedo l'opera finita, diciamo. Ecco, abbiamo detto che questi quadri, da qualsiasi punto, li guardi, raccontano qualcosa. Tu che cosa ci vedi? Eh, io ci vedo tante cose e certe volte mi fermo addirittura su una sedia a guardarli perché ogni volta che li riguardo ci trovo cose nuove, scopro cose nuove in questi quadri che faccio. E ecco, e mi piacciono. È una cosa che mi piace. Ecco, alcuni sono estremamente colorati, mentre altri no. Come nascono queste scelte? Eh, nascono che io faccio delle sperimentazioni di colore e quindi poi tengo solo i colori che a me piacciono. Per esempio qui c'è un verde, c'è un rosso, il viola mi piace. E per esempio c'è altri colori che non mi piacciono e quindi non li faccio. Cioè l'arancione per esempio l'ho fatto, non mi piace e l'ho rifatto. Allora siamo curiosi, qual è il colore che ti piace di più? Eh, il viola. Questo viola qua è anche il verde. Beh, mi piacciono. Questi colori mi piacciono, tutti quelli che vedete. Ci troviamo con Carlo Silvestrin, gallerista padovano, che ospita l'esposizione di questi quadri. Quanto tempo rimarranno qui? Beh, dunque, questi quadri rimarranno esposti per circa un mese, come quasi tutte le esposizioni che noi facciamo. Noi abbiamo sempre fatto una scelta di esposizioni personali per dare dignità ad ogni singolo artista. Come nascono le collaborazioni con questi artisti? Beh, più che altro sono collaborazioni che nascono casualmente. Ci si incontra o perché si vedono delle altre mostre dell'artista o perché l'artista viene a proporre le sue cose alla galleria. Si fa una valutazione di merito sulla capacità dell'artista di produrre non soltanto delle cose ben fatte, ma anche delle cose che abbiano delle idee, qualcosa di nuovo da dire. A quel punto si comincia. Abbiamo appena conosciuto Stefano Capellini. Che cosa raccontano i suoi quadri? Beh, diciamo che chiedere ad un artista cosa raccontano i suoi quadri è la domanda più bizzarra che si possa fare. Da che esiste il mondo, chi non vede un quadro con una figurazione ben definita ha proprio questa domanda spontanea. Che cosa stai rappresentando? La risposta più logica da dare è ogni quadro rappresenta quello che lo spettatore riesce a cogliere. Trasmettono emozioni. Il quadro deve essere un'emozione, l'opera d'altra deve essere un'emozione. E questa emozione deve essere estremamente personale. Quello che ci vedo io in un quadro non è necessariamente quello che voleva rappresentare l'artista e tantomeno quello che potrà vedere lei o qualsiasi altro osservatore. Con lei è l'artefice di un progetto davvero ambizioso. Vogliamo anticiparlo? Diciamo che sono due anni che si lavora a stretto contatto di gomito con l'amministrazione comunale di Padua, con l'assessore Colasio, con l'amministrazione comunale di Abano Terme, che ci sta dando un grossissimo supporto con l'assessore Pollazzi e con l'amministrazione comunale di Rennes in Francia per portare un'edizione zero, così l'abbiamo chiamata, della Biennale Internazionale di Street Art. Si coloreranno una quindicina di grandi palazzi in città. Abbiamo avuto un'entusiastica adesione sia da parte di privati che hanno messo a disposizione condomini interi, perché potessero essere dipinti da questi artisti internazionali, ma anche dalle, chiamiamole così, dalle massime espressioni dell'economia cittadina. Questa è una manifestazione che noi andremo a creare in collaborazione con Assindustria Padova Treviso, con Confartigianato e con una serie di aziende pubbliche e private, tra le quali il gruppo Ali Supermercati, Infocamere, il mercato agroalimentare di Padova, ci saranno coinvolti i consorzio ZIP, l'Interporto, e tutta una serie di soggetti che si sono messi a disposizione per cominciare a ripensare a Padova, una Padova riqualificata da una parte con l'arte, per cui la street art, che oggi è forse il motore della riqualificazione delle più grandi città internazionali, e dall'altra parte tramite l'ecologia, in quanto verranno utilizzate tutta una serie di accorgimenti, primo tra tutti una pittura particolare, che ha la capacità di trasformare gli inquinanti presenti nell'aria in inerti, aiutando a sanificare e a purificare questa città, che purtroppo ha raggiunto il primato di essere una delle città più inquinate d'Italia. E adesso parliamo di clima, vediamo che cosa succederà nelle prossime ore, dopo una temporanea fase di tempo stabile sulla nostra regione, con la giornata particolarmente soleggiata di oggi. domani avremo un veloce passaggio di una seconda depressione nord-atlantica, che porterà nuovi annuvolamenti e qualche pioggia. Da giovedì poi avremo un miglioramento delle condizioni, con l'ingresso da ovest di un vasto promontorio anticiclonico, che porterà anche ad un rialzo delle temperature. È tutto per questo appuntamento con l'informazione, ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.